Archivio storico universale delle belle arti del Centro Accademico Maison d'Art di Padova. Mostra personale ed antologica dell'artista Deborah Ferruzzi Caruso nella Galleria Storica del Centro Accademico Maison d'Art di Padova. L'incantamento di luce nei dipinti dell'artista Deborah Ferruzzi Caruso. Il tocco scorre lieve ed intrepido sulla carta, a prevarchi all'aria della luce, costruendo nella fusione dei colori forme che via via si riconoscono nella loro purezza e nell'incantamento di luminosità. Può essere uno scorcio di Venezia, un paesaggio o di una veduta marina, ariosa, dove la visione ha sempre una declinazione poetica. Così, gli splendidi acquarelli dell'artista Deborah Ferruzzi Caruso ravvisano sempre qualcosa che va al di là della rappresentazione fenomenica del paesaggio. E l'interpretazione romantica delle armonie universali, colta con vigore emozionale anche dal più grande acquarellista dell'Ottocento, Turner, nei suoi dipinti che rimandano alla forza primigenia della natura nei fenomeni universali. D'altro canto, le immagini dell'artista Deborah Ferruzzi Caruso sono sempre trasfigurate nel sogno, mentre l'acquosità dell'acquarello rende sfumato il colore che ogni volta diventa luce. E' una luce che si spande nell'aria e nelle cose, cogliendo la bellezza immediata del reale, che converge con un'ideale dimensione immaginaria che si fa poesia nei moti dell'anima. Ma soprattutto colpisce la qualità pittorica, dove le sfuggenti macchie di colore così raffinato e trasparente assumono un significato simbolico ed interpretativo di una realtà introspettiva nella sospensione di un'armonia lirica e sognante. Per un nuovo linguaggio d'arte nella storia dell'arte italiana ed internazionale. La storia dell'artista è la storia dell'artista di un'armonia lirica, Grazie a tutti.